ecco qua no che errore scusate ecco ecco qua abbiamo elettronica rex televisore funzionante abbassiamo il volume abbattiamo a mi sbaglio sempre con questo cavolo di canali guardate non riesco proprio memorizzarlo ok dicevo abbassiamo il volume vedete l'osd funziona perfettamente ecco qua i colori sono buoni non è stato impostato un contrasto altissimo neanche una luminosità da accecarsi questo è il televisore chiuso il suo tubo dall'originale orion è diventato un philips di un radio marelli funziona perfettamente si vede bene e basta si può concludere